Il primo regalo è essere qui con voi. Io e il presidente abbiamo grandi ambizioni. Al mio arrivo in città ho visto bandiere e stescioni e ho capito che i tifosi sono molto fieri della squadra. L'obiettivo è far sì che questo accade anche nel futuro. De Laurentiis ha posto una sticella alta. Il sogno è vincere trofei. Rudy Garcia si è presentato così in qualità di nuovo allenatore del Napoli campione d'Italia. Non ho paura di niente. Il trioffo ottenuto in campionato deve dar fiducia a tutti i giocatori. Anche se si riparte da zero. Non farò rivoluzioni ma metterò comunque il mio tocco. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao.